ciao a tutti è un po che non facevo video ma ho avuto da fare anche perché come vi dicevo mi sta scarseggiando la resina quindi non ho fatto nuove creazioni e ho fatto queste qui che sono molto poche come vedete ho utilizzato riprovato a fare l'effetto galassia e poi creato questo nuovo stampo qui e come pigmento ho utilizzato i pigmenti quelli minerali per fare gli ombretti quindi non lo so come sia venuto comunque vediamoli insieme partiamo dall'effetto galassia vediamo perché sono ho comprato finalmente i nuovi glitter perché li avevo completamente terminati mi era rimasto pochissimi pochissimi colori quindi ancora non sono asciuttissimi come sempre eccolo qua madonna come si vede scuro in realtà è molto più blu mannaggia non so come fare per farvelo vedere però è blu non è così scuro provo un attimo a mettere il flash da sempre molto scuro tendente al nero in realtà è più sul blu però da qui si vedono molto bene tutti i vari glitter molto carino poi abbiamo qui il fiocchetto che ho visto che mi è venuto male perché mi si è spostato un po la resina ecco troppo carino mannaggia qui però magari qua lo posso limare gli do notti una sistemata perché è molto molto carino c'era me piace troppo questo stampo se sembra che ci siano tante pietruzze colorate vero molto molto carino adesso spero di riuscire a sistemarlo quanto asciutto per bene perché ancora è un po molliccio e anche intriso d'olio me ne è cascato un po troppo abbiamo qui un semplice fiocchetto eccolo qua ok poi andiamo avanti con l'effetto galassia qui si mi è cascata un po la resina anche in questo era tutto ben ricoperto e quando si asciuga mi inizia a fare questi buchi non lo so che non è pari lo stampo non lo so questo era proprio l'ultimo rimasuglio ed è bruttissimo assolutamente poi quest'altro fiocchetto che mi è cascato tutto di fuori e la resina che questo dopo lo sistemo vado a togliere tutto il contorno però l'effetto cala galassia è davvero carinissimo dove vediamo questo qui perché mi ricordavo che uno di questi due cameo fiocco mi era venuto male ma non mi ricordavo quale adesso so che questo infatti butto via devo ricordare questo di buttarlo via poi vediamo qui la scritta cute che non è sottile di più bella bella no questo effetto è troppo troppo bello avevo creato queste cose per farci sempre le solite cover ma non mi sono ancora arrivate è passato praticamente un mese ho ricontattato quella persona non mi risponde più stamattina ho fatto la no non la vertenza la il cosa insomma su ebay perché non mi risponde adesso aspetto risposta perché anche se è una questione che ho comprato questi due cover trasparenti semplice a 2 euro non è tanto per i due euro ma per una questione di principio e se avendo qualcosa su ebay o su qualche altro canale eccetera se c'è qualche problema comunque rispondo per risolverlo non faccio una cosa del genere io ho avuto pazienza perché magari con la posta 1 ci vuole un attimino più tempo ma è passato un mese cioè manco venisse dall'america mi pare che era di bologna una cosa del genere quindi è molto vicino a me ma perché dei cinesi ci sono le cover ma trasparenti normali no bello ecco i piedi del cane chiaramente è bellissimo lucidissimo come vedete questo tecnica del come si dice dell'olio è favolosa bello poi ho fatto allora dicevo scusatemi queste qui con il pigmento per fare appunto gli ombretti quindi non lo so diamo un po ok come colore ieri da anche molto quello del pane dei dolcetti quindi ci sta perché cercavo comunque di creare questo tipo di colore visto che con il mix di o smalti o colori acrici non ci sono riusciti invece mi pare che questo qui venga molto bene ci sta adesso questo perché è venuto piccolissimo basso basso perché appunto è gli ultimi gocce di resina ma era giusto per capire questo qui è il micetto bruttissimo butto via ciao poi questo qui vi dicevo è lo stampo che ho creato ieri l'altro qui abbiamo un orsetto fatto in legno un bellino si pensavo a questa ecco si vede benissimo questa texture che però è molto molto lieve quindi io pensavo che sulla resina non non si riuscisse a vedere invece è venuta benissimo bello adesso un attimino si deve asciugare perché è ancora molliccio però è venuto bene adesso penso un po come come fare per una prossima creazione se andare a colorare i dettagli oppure solo i contorni adesso vediamo però è carino c'è anche la cucina e la cucina in a quali lì però praticamente sarebbero e quei ciondolotti che regalano quando fate un pacchettino dalla attun e io ciò quelle poi c'ho una cucinella pro la cucina non è che mi piaceva più di tanto invece il versetto è troppo carino poi qui abbiamo una pseudo chiave con questa corona però manco un pezzo qui che qui c'è si vede che mi si è spostata la resina comunque era venuta bene se c'era quel pezzo era tutto intera quindi ok poi ci avevo due ciondoli cosa qui è una chiave scusate è una manina e qui abbiamo la come si chiama la tartarughina che però vedete ci sono tutti puntini neri praticamente sono erano due charmi in argentone e quando ho fatto il calco mi erano rimasti tutti dei pezzettini qui attaccati che non riuscivo ecco li vedete questi qui non riusciva a togliere come se avessero diciamo strappato un po dell'argentone di questi charm e quindi mi è uscito fuori anche sul sulla creazione in resina vabbè però non sono male piccolini ok questo qui è tutto ciò che è salvabile scusate ma sto male con questa tosta raffreddore da due settimane ormai e non c'è verso che mi passi una cosa allucinante allora i preferiti di oggi sono assolutamente l'orsetto e il cammeo perché questo effetto galassia è proprio bello mi piace anche questo carinissimo qui al te pigmento come vedete ci avevo messo anche un po di glitterini molto molto carino sono contenta spero che queste piace creazioni piacciono anche a voi e ci vediamo presto un bacio ciao